aticare la mia attattenenza sugli anni e... dicendo che all'epoca io abitenevo alla ... generazione quella che ero a me sempre e non so di biservare la mia rotta quindi pier uzziare per schnele cercherche e io non ho mai disconesce, che all'epoca come la ritencia era la micronna Io per quella minima farei qualunque cosa oggi quindi Chiara, Chiara Benissite per la testa potete! Grazie per la visione!